Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi giocherò di nuovo a Fortnite la terza volta, la quarta volta, non lo so Allora, voi vedete? Allora, ci buttiamo raga, ci buttiamo nel mangiore, no, sono già andato Allora, non so se vedete così tanto però, però, scusate un attimo se non vedete però devo fare una cosa Allora, ok però, ok ci siamo tutti, allora, chissà quanti siamo ora nel video, non lo so neanche perché è una live Ma tanto se non li guardo nessuno i miei video, povero ma, che il cuore di io li faccio, non li faccio più se adesso non li guardo i video, non vi lascio nulla di like Oggi, iscrivetevi al canale e lasciate like Non so se vedete così tanto, aspettate un attimo fra Ora vedete Ok Allora Grazie Grazie Allora Se troviamo già delle armi fortissime, giuro, ne ha matto, te lo ve lo giuro Se troviamo delle armi fortissime Giuro E li ho già trovato Ok Perché è ragione Ok Eh, fra Come possiamo dire C'è io, c'è un miascolo Oh, che fa, c'è un miascolo Oh, oh, ma si fa, c'è un miascolo Doi, ma non c'è un sciso, raga Raga, c'è un sciso Ciao Grazie a tutti